Buongiorno a tutti, grazie a Tommaso per la bellissima presentazione. Io sono estremamente lusingato di trovarmi qui ed è per questo che ci tengo a ringraziare subito e una prima volta il direttore del Festival Filosofia, Daniele Francesconi. Il compito è di discutere lo scritto di Heidegger sull'origine dell'opera d'arte, la cui prima bozza, risalente al 1931-32, è stata via via rielaborata nel 1935-1936 come base per le conferenze tenute dal pensatore tedesco a Friburgo in Brisgovia, a Zurigo e a Francoforte sul meno. La prima pubblicazione completa di una postfazione composta in parte successivamente è nel volume Holzwege del 1950. Nel 1956 è stata redatta l'Aggiunta, pubblicata quattro anni dopo, nel libello singolo uscito per l'editore Reclam. D'ora in avanti lo chiamerò semplicemente il saggio. Personalmente lo considero uno dei due testi speculativi fondamentali del Novecento sulla questione dell'arte. L'altro è l'opera d'arte nel tempo della sua riproducibilità tecnica di Benjamin, che fu redatto fra il 1935 e il 1936, quindi vedete gli anni sono quelli. Posso chiedere se hanno un ritorno confuso o disturbato? Dico va bene, sentite la parola. No, perché io non sento benissimo invece. Vabbè. Dicevo, qui però in questa sede non sfiorerò neppure il confronto tra i due, anche perché il compito, già di per sé arduo, è di condurre una esposizione sintetica, perspicua e insieme critica del testo di Heidegger. Parto dall'ultimo capoverso dell'Aggiunta, scritto vent'anni dopo il testo delle conferenze. Heidegger vi parla di due inevitabilità. Resta un inconveniente inevitabile che il lettore, il quale naturalmente accede al saggio dall'esterno, innanzitutto e per lungo tempo non si rappresenti i fatti in questione e non li interpreti a partire dalla segreta regione da cui sgorga ciò che deve essere pensato. Ma anche per l'autore resta l'inconveniente di parlare ogni volta con le parole adatte a ciascuna delle diverse stazioni del cammino. E così posso dire più precisamente in che consiste l'arduità del compito della mia esposizione. Si tratta in poco più di un'ora, anzi meno di un'ora, uno, di far sì che l'uditore acceda al saggio dall'interno, due, parlandogli con le parole adatte al cammino speculativo e heideggeriano nel suo complesso, incluse le ultime stazioni, il che mi indurrà a ripercorrere il saggio invertendone in qualche modo, comunque sovvertendone l'ordine espositivo. Heidegger. L'intera trattazione L'origine dell'opera d'arte si muove recentemente e tuttavia inespressamente lungo la via della questione del Wesen des Seins, dell'essenziale dell'essere. La locuzione tedesca Das Wesen des Seins, scusate la mia pessima pronuncia del tedesco, quindi questa locuzione tedesca che prima di Heidegger si poteva legittimamente rendere in italiano con l'essenza dell'essere, dopo di lui e per lui non si può non intendere anche in italiano secondo la derivazione verbale del neutro Wesen, essenziale, appunto, che per il pensatore tedesco ha un significato collaudato anche storicamente attraverso i greci e Goethe. essenziale, essenziale e durare, nel senso di garantire ciò che è destinato ad accadere durevolmente. Das Wesende, l'essenziante, è per Heidegger il garante, il proteggente, il mallevadore e insieme il mantenente, qualcosa di assai lontano dalla essenzia pensata dalla metafisica classica con cui si indica ciò in virtù di cui e in cui qualcosa è, possiede il suo essere peculiare. Dunque, la questione dell'essenza dell'arte dipende dal previo svolgimento meditativo della questione dell'essenziare dell'essere, ossia del durare, insieme garantito e garante dell'essere. Questa circostanza è indice di un legame necessario fra l'arte e la regione fontale da cui sgorgano tanto l'arte quanto la considerazione pensante dell'arte stessa. La regione delle Reignis, dalle Reignis, dice Heidegger nel saggio. La meditazione su cosa sia l'arte è interamente e decisivamente determinata solo sulla base della questione dell'essere. L'arte non vi è considerata come ambito specifico di realizzazione culturale, né come una manifestazione dello spirito. Essa appartiene all'Ereignis, in base al quale unicamente si determina il senso dell'essere. Confronta Sein und Zeit. È un'autocitazione di Heidegger. Perciò nell'aggiunta si legge anche l'arte è qui pensata in base alle alle Reignis. Ora, se l'arte non può in generale essere pensata che a partire dalle Reignis, se l'arte così come viene trattata nel saggio è considerata anzitutto in base alle Reignis. Ma allora, come possiamo noi capire anche solo un aspetto secondario minore dell'artisticità, senza tentare di pensare a nostra volta, cominciando da questa regione data dalle Reignis? Come crediamo di poter intendere speculativamente il saggio, nel suo senso complessivo e nei suoi enunciati più minuti, senza lasciarci indicare la direzione fondamentale dalle Reignis? E soprattutto, senza lasciarcela indicare primariamente nella modalità in cui l'ha fatto lo stesso autore del saggio. Er Reignis. Er Reignis è divenuta ufficialmente la parola guida del pensare di Heidegger nel 1936. E si può arguirne che una propulsione importante, se non decisiva, per la scelta della parola sia venuta giusto dalla meditazione sull'arte trascritta nel saggio. Er Reignis, come parola del pensare sedicente oltre metafisico, deve restare intradotta. La sua intraducibilità deve essere difesa, insiste Heidegger, così come avviene e non può non avvenire anche per il logos greco o per il tao cinese. Nella lingua tedesca corrente, Er Reignis vuol dire evento, avvenimento, e in italiano noi spesso riserviamo la parola evento a fatti e accadimenti particolarmente rilevanti. Nella lingua del pensare, invece, Heidegger sostiene che il nome Er Reignis deve giocare il ruolo destinale di cenno. Cenno che non tanto accenna verso, quanto piuttosto accenna a partire dal nominato. Non è il nome qui ad avere un senso e un significato, né un pensatore o un poieta a darglieli. Bensì il nome viene pronunciato in corrispondenza a un balenio, auf Blitzen, a uno scintillio del Reignis stesso, il quale perciò è, semmai, l'eventuante, grazie a cui può darsi ogni evento, ogni essere, e persino l'essere in quanto essere, come viene pensato dalla metafisica classica a partire da Aristotele. Posso avere un po' d'acqua? Ci voleva. Un tratto. Un tratto è memorabile. tra i tentativi heideggeriani di caratterizzazione delle Reignis. Le Reignis als ergebnis, in quanto d'azione, donazione, ci sarà prezioso per il nostro accesso dall'interno alla riflessione di Heidegger sull'arte. Dunque, nel saggio, l'arte è pensata in base alle Reignis, e lo è specialmente nei passaggi in cui viene detto che la verità si mette all'opera nell'opera d'arte autentica. E ciò non si eventua a caso. Infatti, che la verità stessa possa originariamente trainarsi, indirizzarsi, instaurarsi, istituirsi nell'opera d'arte, e che si possa parlare ancora, dopo Hegel di opera d'arte autentica, sono eventualità tutt'altro che pacifiche. Hegel è il primo interlocutore di Heidegger sul destino dell'arte. Non viene mai citato esplicitamente nel corpus principale del saggio, cioè nel preambolo e nelle tre parti, ma viene citato solo nella post-fazione. Ascoltiamo questa citazione, parleranno in due. Cercherò di diversificare le voci. Vediamo cosa esce. che è il primo interlocutore di Hegel. Hegel è il primo interlocutore di Hegel. Per noi l'arte non vale più come la modalità suprema in cui la verità si procura esistenza. Si può ben sperare che l'arte si elevi e si venga perfezionando sempre più, ma la sua forma ha cessato di essere il bisogno supremo dello spirito. In tutte queste relazioni, e secondo il lato della sua suprema destinazione, l'arte è e rimane per noi un passato. La sentenza che Hegel pronuncia in queste frasi non può essere elusa, constatando che dopo l'inverno 1828-29, in cui l'estetica di Hegel venne esposta per l'ultima volta all'Università di Berlino, abbiamo assistito alla nascita di molte e nuove opere d'arte e correnti artistiche. Hegel non ha mai voluto negare questa possibilità. Se nonché resta la questione, l'arte è ancora una modalità essenziale e necessaria in cui accade la verità decisiva per il nostro esserci storico, oppure l'arte non è più questo. Ma se non lo è più, resta allora la questione del perché non lo sia più. La decisione sulla sentenza hegeliana non è stata ancora presa. Dietro questa sentenza, infatti, sta il pensare occidentale a partire dai greci, il quale pensare corrisponde a una verità dell'essente già accaduta. La decisione sulla sentenza viene presa, se viene presa, sulla base di questa verità dell'essente e al di là di essa. Fino ad allora la sentenza resta valida, ma proprio per questo è necessaria la questione se la verità detta dalla sentenza sia definitiva, e se essa è tale, che cosa allora ne derivi? Ecco dunque, in vista di quale decisione epocale, Heidegger ha intrapreso la riflessione trascritta nel saggio. La decisione sulla fine dell'arte. La validità della celebre sentenza di Hegel sulla morte dell'arte è durata? Fino a essere e tempo. Perché così suona inequivocamente l'autointerpretazione heideggeriana? È lì che viene assunta per l'umanità una nuova decisione sulla verità dell'essente in totale. Nuova perché il pensare l'ha maturata in corrispondenza a una fin lì a scosa, inaudita instaurazione della verità al centro dell'essente, in risposta al primo scintillio delle Ragnis, nell'epoca dell'ultrapotenziamento della tecnica. Entro la prospettiva metafisica, dominata per Heidegger dalla interpretazione dell'essere come presenziale e presenzialità, la sentenza di Hegel sull'arte è definitiva, irrevocabile, insormontabile. Ma nell'epoca inaugurata dalla esperienza fondamentale del pensare in essere e tempo, il nuovo tipo di sapere meditativo guadagnato da Heidegger si autodichiara come la preparazione precorritrice e pertanto inaggirabile del divenire dell'arte. Ecco perché il saggio presenta se stesso come paradigmatico per il futuro dell'arte. Cercherò di mostrare perché esso è invece inutilizzabile per l'arte futura, proprio quando questa autopresentazione vi prende il sopravvento sulle istanze speculative più genuine. Il titolo del saggio. Der Ursprung des Kunstwerkes, l'origine dell'opera d'arte. L'esplicitazione etimologico-metaforica della parola Ursprung, origine, si trova sul finire della terza parte. Heidegger. Scatoriginare qualcosa, farlo sgorgare, condurlo a essere nell'arcisgorgo, ossia nel salto istituente sgorgato dalla provenienza dell'essenza. Questo indica la parola origine. E secondo questa determinazione dunque che bisogna intendere la risposta alla domanda implicita nel titolo del saggio. L'origine dell'opera d'arte è l'arte. Lo dice ripetutamente Heidegger. Nel suo essenziale l'arte è una origine perché scaturigina, fa sgorgare opere in cui è la verità stessa a mettersi in opera istituendole e così divenendo storica. Ora, lo storicizzarsi della verità nelle opere d'arte fa dell'arte una origine che è storica nel senso essenziale che fonda storia, dice Heidegger. Fonda l'esserci storico di un popolo. Da qui le domande drammatiche, seguite dalla citazione di Höderling, con cui Heidegger conclude la terza parte. Heidegger. Siamo noi nel nostro esserci storicamente all'origine? Sappiamo l'essenziale dell'origine? Oppure nel nostro contegno verso l'arte ci appelliamo ormai solo a notizie erudite del passato? Per questo dilemma e per la sua soluzione c'è un segno infallibile. Höderling, il poeta la cui opera ancora sovrasta e sopravanza i tedeschi in attesa di essere constatata e sostenuta, lo ha nominato dicendo «difficilmente abbandona ciò che è vicino all'origine abita il luogo». E' lampante, abbacinante direi, che la locuzione «Inunserem Dasein» vuol dire «nel nostro esserci tedesco» e che la fondazione o rifondazione di cui qui si tratta riguarda l'esserci storico del popolo tedesco. Come a dire? Dopo il tralucere delle Raignis nell'esperienza pensante di essere tempo, occorre che l'intero esserci tedesco riattinga la scaturigine essenziale presso cui già abita. Ed è il momento che storicamente ciò accada nell'ambito dell'arte come nella rifondazione del Reich. Un popolo investito destinalmente di una dotazione e di una missione geocosmico-politiche. Ma infatti, come è definita nel saggio la Geschichte, la storia. Storia non indica qui la serie temporale di dati e avvenimenti più o meno importanti. La storia è lo sradicamento estatico di un popolo entro il compito che gli è dato, in quanto il radicamento entro ciò che gli è dato in dote. Questa argomentazione inficia un punto strategico del saggio, cioè il finale della terza parte. Lo vincola infatti a una duplice debolezza speculativa. Da un lato all'autoelezione di Heidegger a profeta delle Raiglis. Dall'altro a una contemporaneità schiacciata sulla contingenza politica. Un'infezione aporetica che rischia di contagiare anche gli altri aspetti della meditazione heideggeriana, quali l'essenza poetico-dizionale dell'arte, l'essenziare della verità alla luce della reinterpretazione della letrea greca e il suo legame con la bellezza. Quindi ne tratterò avendo cura di evitare il più possibile il contagio. Ma non era solo uno stacco tra la prima e la seconda parte. Riprendiamo adesso l'ascolto del saggio dalla parte terza. Ogni arte, in quanto lasciar accadere l'avvento della verità dell'essente in quanto essente, è nella sua essenza poesia. Dichtung. Sulla base dell'essenza poetante dell'arte, accade che di colpo l'arte ha pronti al centro dell'essente un posto aperto, nella cui apertità tutto è diverso dal solito. Ogni abituale e durato finora diviene, mediante l'opera d'arte, un inessente. Questo inessente ha perduto la capacità di dare, servare e avverare l'essere come misura. Se ogni arte nella sua essenza è poesia, allora l'arte architettonica, l'arte figurativa e l'arte musicale non possono essere ricondotte all'arte poetica. L'arte poetica è soltanto una delle modalità della progettazione della verità, ossia del poetare inteso nel senso più ampio. Non di meno l'opera in parole, la poesia in senso stretto, occupa una posizione eminente nel compresso delle arti. Per vederlo occorre solo il concetto retto del linguaggio. Il linguaggio, la loquenza stessa, è poesia in senso essenziale. Ora, però, poiché la loquenza è quell'accadimento in cui solo si dischiude via via gli uomini l'essente in quanto essente, ecco allora che l'arte poetica, la poesia in senso stretto, è la poesia più originaria in senso essenziale. Diversi sono qui gli spunti notevoli. Alcune determinazioni le ritroviamo, fra l'altro, quasi alla lettera, anche in testi redatti da Heidegger trent'anni dopo. Sebbene siano eloquenti e addirittura urlanti due assenze, la fotografia e il cinema, che la meditazione edegheriana sull'arte lo smetterà mai di scontare. Ma è un altro discorso questo. Intanto l'individuazione della comunanza essenziale di tutte le arti nella dichtung si corrobora mediante la distinzione dichtung poesie, tra poesia e arte poetica, per cui quest'ultima, in quanto arte della parola, gode di un ruolo privilegiato fra tutti gli ambiti artistici. Non è affatto un mero ritorno all'idea romantica della gerarchia delle arti, alla Hegel, Schelling o Schopenhauer. Anzi, il privilegio va connesso alla abissalità inesauribile e feconda, secondo cui Heidegger pensa il rapporto fra dichtung e sprache, tra poesia e eloquenza. Ripercorrendo il medesimo circuito speculativo, il pensatore tedesco dirà poi, nella conferenza di sprache del 50. Il parlare mortale è nominante chiamare, richiamo a cosa e mondo affinché vengano, muovendo dalla semplicità della interferenza. Il puro richiamato del parlare mortale è il parlato della poesia. Autentica poesia non è mai solo una maniera più elevata della lingua quotidiana, piuttosto il contrario. Il discorrere quotidiano è una poesia dimenticata e perciò usurata, nella quale a stento ancora risuona un chiamare. Ma ecco l'impiego stesso della parola dichtung per l'essenza dell'arte, che già nel saggio viene operata una mossa strategica, lungimirante e decisiva per le stazioni teoretiche più tardi. Collegandola infatti al verbo greco deikniumi e alle espressioni latine dicto e indico, Heidegger fa emergere con nettezza la relazione che la dichtung, attraverso e oltre la lingua, il linguaggio, l'alloquenza, intrattiene con la dizione dalle raignes. Dizione sta qui per il sostantivo tedesco sage, dal verbo sagen, dire. Ecco, con la sage, intesa come la dizione indicante, dictante, siamo davanti alla modalità più propria dell'eventuare delle raignes, al punto che se sorge la questione di una origine delle origini, nel senso heideggeriano non è origine solo l'arte, ma lo è anche la politica, la religione, il pensare speculativo, qualora ci si chieda se c'è un arcisgorgo da cui l'instaurarsi della verità nell'arte, in quanto essenza della poesia, riceve il proprio essere origine istituente nel triplice senso di donare, fondare e principiare, allora la risposta più adeguata pare essere proprio la sage come scaturigine di ogni possibile scaturigine. Zaghe che Heidegger impiega non di rado nell'accezione epico-mitica che si riscontra per esempio nella parola italiana saga. Perciò nel saggio si legge a un certo punto di dichtung ist die sage der unverborgenheit des seienden. Mi sono già scusato per il pessimo tedesco prima. La poesia è la saga della inascosità dell'essente. internosso trovo che le riflessioni sulla arci originarietà della saga, cioè del mito in genere, siano tra i lasciti heideggeriani più preziosi per il pensare filosofico attuale. Ma nel frattempo è stata infine nominata anche la famosa e famigerata Unverborgenheit di Heidegger. Nel saggio compare presto, fin dalla prima parte, e viene sempre di nuovo chiamata in causa nelle altre due parti, nonché nella postfazione. Beata giovinezza, che cos'è Unverborgenheit? Innanzitutto è la trasposizione letterale in tedesco della parola greca Alefeia, che prima di Heidegger veniva tradotta placidamente con verità. Il pensatore l'ha coniata partendo dall'aggettivo negativo Unverborgen, non nascosto, il cui positivo è de verbale di Verbergen, nascondere, e si trova già in essere tempo. Alla quasi cacofonica ma fedele non nascostità, nella mia traduzione del saggio pubblicata nel 2002 per Bonpiani, ho preferito l'assai più elegante, a mio avviso, inascosità. Questa era la trasposizione letterale. Quanto al senso Unverborgenheit è la regione di per sé inappariscente e preappariscente, all'interno della quale tutto ciò che è appare e dispare. Presenzia e assenzia, si mostra e si nasconde, si accende e si spegne, ma sempre indas offene, nell'aperto, indetto, indicato, dictato dall'essenziare della inascosità secondo de Rheignes. Ora, l'inascosità stessa è una tesi tenace di Heidegger, sarebbe rimasta nascosta alla metafisica. Cito. Nel pensiero dei greci, e a maggior ragione nella filosofia posteriore, l'essenza della verità come Alefea rimane impensata. Per il pensare, l'inascosità è quanto di più ascoso vi sia nell'esserci greco. Ho tuttavia motivi sia storici sia speculativi per ritenere che l'ultima tesi sia in parte pregiudicata da ciò che altrove ho chiamato la epocalizzazione indebita della metafisica operata da Heidegger e di cui ho prima mostrato un effetto a proposito della chiusa della terza parte del saggio. In questa sede, ora che devo avviarmi però alla conclusione del mio intervento, preferisco proseguire con l'esplicitazione di un'importante acquisizione interna al saggio, per la quale bisogna invece essere grati al pensatore tedesco. Appare ormai chiaro che quando utilizza la locuzione mettersi in opera della verità nell'opera d'arte, la quale risuona ovunque nel saggio, fin dalla prima parte. Heidegger pensa a ciò che in seguito sempre più perspicuamente gli si mostrerà come il dirsi, indicarsi, dettarsi della inascosità attraverso l'essenziale dell'arte, cioè attraverso la saga poetica dalle Reichenis. E questa acquisizione è a mio avviso degna di ulteriore approfondimento critico nell'ottica di una riconsiderazione filosofica dell'arte in generale. Uno dei limiti congiunturali del saggio è che al tempo della redazione del suo corpus principale, 1935-37, fosse ancora balbettante la concezione della Lichtung. A fronte infatti di frangenti argomentativamente icastici, davvero superbi, ci sono diversi brani che invece intorbidano le acque della comprensione, assai più che rischiararle. Per esempio, la prima citazione della Lichtung è memorabile. In mitten des seienden im ganzen best eine offene stelle. Eine Lichtung ist. Al centro dell'essente in totale essenzia un posto aperto. Un luco è. Ma la descrizione della duplice modalità del nascondimento, rifiuto in postura, versagen und verstellen, che fa capo la Lichtung, e soprattutto in essi, mal delineati tra il luco e la poesia e la stessa inascosità, costringono negli anni successivi Heidegger ad annotare a margine del testo l'insufficienza espressiva di vari passaggi o a integrare le lacune argomentative. Eppure gli ingredienti e l'ispirazione del saggio non sono molto lontani dalla chiarezza adamantina di questo enunciato degli anni Sessanta. Sessanta. Solo la lefea, l'innascosità pensata come luco, garantisce la possibilità di verità. E allora, ricombinati e riallineati i filosofemi del saggio secondo la costellazione che verrà a imporsi nelle stazioni più tardi dell'itinerario speculativo heideggeriano, è giunto il momento di fare entrare in scena dall'intimo del saggio, il tratto più scabroso e immancabile, il più invocato e contestato, il più conteso dell'arte moderna, di Schönheit. La bellezza. Una delle rare frasi in corsivo nel saggio suona. Schönheit ist eine Weise. Biberheit als Unverborgenheit best. E stavolta non ve lo traduco. Scherzo. Scherzo. E mi lascio prendere dalla foca. Perdonate. Sdrammatizziamo anche un po'. Bellezza è una modalità in cui verità essenzia come inascosità. Questa è una frase, secondo me, bellissima del saggio in questione. Il medesimo contesto viene ripreso nella postfazione. Quando si mette nell'opera, la verità erscheint, appare. L'erscheinen, l'apparire, in quanto è questo essere della verità nell'opera e come opera, è la schenheit, la bellezza. Il bello appartiene quindi all'eventuarsi della verità. E dunque lungo il rosario di grani della famiglia del verbo scheinen, scheinen und scheinen, erscheinung unter scheinen, schönes und schönheit, che Heidegger pensa il legame tra l'eventuare eminente delle reignis e la bellezza artistica. Scheinen, in genere, viene tradotto con parere, apparire, quando è erscheinen, ma significa anche scintillare, anche trasparire. Trasparizione e trasparenza è sempre scintillanza e dunque il bello. Nell'opera d'arte autentica non semplicemente es gibt schönheit, c'è bellezza, ma soprattutto es di schönheit gibt, esso ereignis da, gibt, da, ergebnis, ereignis ist ergebnis, da, la bellezza. Nella bellezza poetica dell'arte traspare dunque la donatività arci originaria delle reignis. E' questo, secondo me, uno dei contributi, forse il contributo di Heidegger, alla riflessione speculativa attuale riguardo all'arte. Arte che, se oggi non costituisce la modalità suprema in cui la verità si procura esistenza, è perché la verità stessa appare in diverse modalità, aventi tutte una pari dignità di fondo e che possono solo variamente, vicendevolmente, sopravvanzarsi a seconda delle condizioni geocosmopolitiche. E' l'ultima pagina. Il mio compito era discutere lo scritto di Heidegger sull'origine dell'opera d'arte. Ho cercato di porgere il testo non secondo l'ordine della sua impalcatura compositiva e argomentativa, ma dal suo interno, dalla sua fonte ispirativa, attento a reperire in certi punti degli scritti heideggeriani successivi, leggo di ciò che nel saggio ha già una sua fisionomia assestata. Ho trascurato così gli esempi celebri di opere d'arte, per esempio la fontana romana di Maier, le scarpe di Van Gogh, il Tempio Greco, come pure i noti passaggi sulla dialettica di mondo e terra e sul gioco metaforico della famiglia onomatica di Ries, il tratto spacco. L'ho fatto perché convinto che avrebbero distratto da rimanere concentrati su quella fonte, su quella regione. E invece in una meditazione rapida e densa, esterna alla redazione del saggio, ma che gli risulta assai più intima dei suoi momenti appena citati, che si può trovare una corrispondenza profonda di Heidegger alla regione delle Reignes, da cui miticamente vibra l'offerenza originaria, indetta e dictata della trasparizione della bellezza. Offerenza che qui trova una sintonia inattesa con l'enunciato finale del Libro Rosso di Jung, in cui l'ombra blu dice a Filemone «Ich bring dir die Schönheit des Leiden», «Ti porto la bellezza della sofferenza». La meditazione in questione risale al 1955 e concerne due. Questo dipinto. Non so come si vede? Si vedicchia, ma dovreste conoscerlo a prescindere, credo. Siamo proprio alla fine. Vi leggo il commento di Heidegger. Attorno a questa immagine si raccolgono tutte le ancora irrisolte questioni relative all'arte e all'opera d'arte. La parola immagine deve qui significare soltanto volto, volto nel senso di sguardo che si volge e viene incontro come avvento. Nell'accadimento unico di questa immagine unica, l'immagine non appare aggiuntivamente attraverso una finestra già sussistente. Bensì solo l'immagine stessa costituisce e immaginalizza questa finestra. L'immagine viene sempre e solo improvvisamente nel suo trasparire. E' nient'altro che l'improvvisità di questo trasparire. Maria conduce il bambino Gesù in modo tale che solo così lei stessa, mediante lui, venga exprodotta nel proprio avvento, il quale entro sé coadduce di volta in volta la ascosità recondita della sua provenienza. Nell'immagine, in quanto questa immagine accade il trasparire dell'umanizzarsi di Dio, accade quella trasfigurazione che sull'altare si eventua come la transustanziazione, come ciò che c'è di più proprio nel sacrificio della Messa. Così l'immagine costituisce e immaginalizza il luogo della Alefea. La modalità della sua verità è il velante trasparire della provenienza dell'uomo Dio. La verità dell'immagine è la sua bellezza. Questo è Heidegger nel 1955. Sono persuaso che nella Madonna Sistina di Raffaello non sia affatto l'immagine a rendere immaginale la finestra, a costituirla come vorrebbe Heidegger, ma è giusto il contrario. È la finestra, sia la finestra dipinto sia la straordinaria finestra nel dipinto, a consentire l'apparizione di Maria col bambino e quindi a consentire la trasparizione dell'incarnazione del logos. Tutto conspira perché la finestra sia qui come altrove la figura del logos. Ma a maggior ragione allora risalta l'acutezza dello sguardo contemplante di Heidegger quando nell'accadere di quella immagine coglie l'atto paradigmatico della messa, la transustanziazione. Heidegger, educato al cattolicesimo, lo abbandonò, è noto questo. Lo abbandonò e poi non abbracciò di fatto nessun'altra corrente cristiana. Il suo è un pensiero got lost, senza Dio, esplicitamente lo dice sempre. Questo è uno dei pochissimi momenti in cui parla non del cattolicesimo, ma addirittura di alcune figure del cattolicesimo. Lo sguardo impaurito del bambino vede presago nello specchio fenestrale se crocifisso, quasi la sua offerenza dovesse caricarsi fin da ora della sofferenza a venire. Ecco perché la verità di questa immagine, la verità custodita in e come l'eventuarsi della kenosis del logos divino fino alla morte di croce e alla Pasqua di resurrezione, la verità di questa immagine è la bellezza dell'immagine stessa. Quel tipo di bellezza che a volte nel mondo, nell'arte come nella vita, è così trasbordante che il cuore si spaura e sta per crollare. E allora non puoi non condividerla, ringraziando chi te ne ha dato le occasioni. Oggi per me era una di queste occasioni. Grazie.